Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. Cresce la tensione in Ucraina e di conseguenza aumenta la paura tra i parenti che vivono ormai da anni nella nostra regione. Stamattina abbiamo ascoltato alcune testimonianze tra queste e quella di una mamma che vorrebbe riabbracciare i suoi figli bloccati nel bel mezzo di una guerra. Il servizio di Stefano Recanati. La richiesta di aiuto all'Europa arriva dalla voce rotta dalle lacrime di questa signora da otto anni a Pescara e che in Ucraina ha lasciato due bambini piccoli. Anzi a paura e terrore sono gli stati d'animo dei circa 3.800 cittadini ucraini, la maggior parte donne residenti in Abruzzo, 1.600 solo in provincia di Pescara. Cercano di informarsi seguendo le notizie, alcune ci dicono certamente false. In Ucraina le città sono nel caos, prese d'assalto farmacie e supermercati per far scorta di vivere in medicina e acqua potabile. Alcuni hanno comprato generatori per timore che possa andar via la corrente. Chi può è già scappato via terra, ma le strade e i confini sono bloccati, per questo è anche difficile tornare in patria. La conferma ci arriva da Alessandro e da Volodimir, ormai danni in Italia ed impiegati presso il mattatoio comunale di Pescara. Io voglio aiutarci, però sta troppo lontano da loro, capito? Noi siamo qua in Europa, lavoriamo per che cosa? Per crescere in Ucraina, capito? Noi non abbiamo lavoro, non abbiamo niente là. È rimasta soltanto la figlia con l'ex moglie e i nipotini. Parenti di mia moglie ancora stanno là, loro rimangono proprio nel paese, in metà di Ucraina ci sono un paese che si chiama Uman. Più giovani, sorelle, fratelli, tutti andati verso la Polonia. Però è rimasto bloccato proprio lì alla Dogana, che la Dogana per il momento è 30-35 km al traffico. Sì, ci sono, poi ci sono tante famiglie che ora si trovano in una situazione brutta, speriamo che andrà tutto bene. Certo, ma non solo per nostra, ma anche per la popolazione di quelli che stanno a fare la guerra, sta a morire la gente là. Questa mattina le truppe russe sono entrate a Kiev, mentre il presidente Zelensky invoca una coalizione contro la guerra. Abbiamo ricostruito con il professor Stefano Trinchese, prorettore dell'Università d'Annunzio, le ragioni storico-politiche del conflitto. Vediamo il servizio di Selenia Secondi. All'indomani dell'invasione dell'Ucraina si susseguono le riflessioni su quello che si pensava potesse essere Putin, un capo di governo che garantisse democrazia così come apparentemente è stato dal 99. Invece così non è stato. Ieri l'invasione dell'Ucraina ha dimostrato che le sue mire sono ancora per lui un'ossessione. Non lo è perché non può esserlo, perché la storia ha una sua lezione che non ha termine. La Russia è sempre stata governata da un autocrate, si chiamasse esso lo zar Nicola II, si chiamasse Lenin o Stalin, si chiamasse Yeltsin o si chiama Putin adesso. Quindi è un po' una nostra idea occidentale di voler vedere la possibilità di una democrazia dovunque. credo che in Russia una democrazia non sia attualmente possibile come non lo sarebbe possibile in altri paesi dove questa tradizione non c'è mai stata. Le ragioni storiche che sono proprio alla base di questa invasione? Le ragioni storiche sono di tre tipi. Una è quella attuale del controllo delle zone russe in Ucraina, l'altra è evidentemente il controllo delle risorse, il grande granaio d'Europa se non dell'Unione sovietica, dell'ex Unione sovietica e la terza è, ahimè, una lezione storica che spesso non sentiamo sui giornali e sulla stampa. E cioè che mentre noi siamo cresciuti nella cultura della resistenza, poniamo, loro sono cresciuti nella cultura di Tolstoi e dell'invasione napoleonica. Qualunque manovra della Nato ai confini dell'ex Unione sovietica viene vista come la nuova grande ossessione della nuova invasione napoleonica senza dimenticarci l'invasione hitleriana che è anche quella un grandissimo incubo nella storia dell'Unione sovietica e della Russia e questa popolazione è cresciuta in questo incubo. Per cui qualsiasi sanzione, qualsiasi movimento di truppa, qualsiasi azione dell'Occidente viene vista come una possibilità di invasione. È ovvio che non è questa la causa, ma è la motivazione che Putin dà all'interno. Dal punto di vista dello scenario geopolitico, la posizione della Nato di non attaccare ma di garantire soltanto una protezione così ai confini? Fa bene a non attaccare perché apriremo un nuovo conflitto afgano da cui usciremmo tutti con le ossa rotte, la Russia e noi e l'Occidente. Fa male perché al tempo stesso solo le sanzioni non garantiscono nulla al processo di pace. A mio avviso, con un certo cinismo, la storia deve fare in qualche modo il suo corso. Finirà che Putin, a mio avviso, si riprende le fasce esterne, orientali, dove sono popolate soprattutto da russi più che da ucraini, con grande ingiustizia verso il popolo ucraino naturalmente. Io non sto assolvendo Putin, sto parlando da storico con la visione realistica dei fatti e speriamo che il conflitto finisca così circoscritto. Altrimenti ricordiamocelo che in quella zona sono scoppiate già due guerre mondiali. La prima nella zona balcanica, con la Russia che premeva contro l'impero Guglielmino e la seconda con l'invasione polacca di Hitler, ma anche con l'invasione sovietica dall'esterno d'accordo con Hitler da parte di Stalin. Quindi grande attenzione. Una manifestazione di solidarietà verso il popolo ucraino è stata organizzata per domenica pomeriggio a Pescara tra i promotori di iniziativa il gruppo consigliare dell'Udc che si dice pronto ad una raccolta di beni di prima necessità da inviare. Vediamo. Anche a Pescara, dove lavorano come badanti, numerose ucraine vivono con grande trepidazione e paura per figli e parenti rimasti in patria queste ore con eventi di guerra che continuano a soffiare da Kiev. Una manifestazione di solidarietà per sensibilizzare i tanti cittadini pescaresi e dell'intera regione è stata organizzata dall'Associazione Interculturale Ucraina Nessun Escluso e da Anorf per domenica pomeriggio presso piazza Sacro Cuore del capoluogo Adriatico a partire dalle ore 15.30. È una guerra veramente innocente, un'invasione, anche se dicono che non è vero, ma vedete anche voi che questa è pura verità. Ragazzini da 18 anni in su che prendono le armi e lo puntano agli altri ragazzi questa è una cosa insupportabile, che nessuno non lo può guardare con tranquillità. Iniziativa sposata appieno dal gruppo comunale dell'Udc di Pescara, il quale prenderà parte senza esporre bandiere di riferimento politico e che si dice pronta già all'organizzazione di una raccolta di cibo e di indumenti. Ovviamente noi chiediamo immediatamente, come lo stanno credendo adesso tutto il mondo, il cessato e il fuoco. Appena ci sarà il cessato e il fuoco ci organizzeremo e faremo come abbiamo fatto per il Covid, l'Udc si piegarà di nuovo le mani e faremo una raccolta di cibo, indumenti e quant'altro che attraverso le donne che lavorano qui saranno avviate, inviate ai cittadini lì di Chieve perché poi ci sarà bisogno ovviamente di ricostruire e quindi di ricostruire anche dal punto di vista sia del vestiario che alimentare. Cambiamo pagina, si è tenuta questa mattina a Pescara la conferenza per illustrare le novità sul raddoppio della linea ferroviaria Pescara-Roma. Al via il dibattito pubblico. Paolo Renzetti. Una grande opportunità da sfruttare per il rilancio infrastrutturale dell'Abruzzo. Il raddoppio della linea ferroviaria Pescara-Roma è prioritario e questa mattina se n'è parlato a Pescara-Laurum dove al fianco del Presidente della Regione Marco Marsiglio è intervenuto anche il Commissario di Governo per l'Opera, Vincenzo Macello, che ha sottolineato l'importanza del dibattito pubblico. In remoto da Roma è intervenuto anche il Ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini. Il PNRR vede un investimento straordinario sulle ferrovie per superare quei gap storici che sono stati talvolta anche oggetto di dibattito sui media e anche di iliarità. Dunque il dibattito pubblico come elemento fondante di una trasformazione del Paese, come uno strumento di innovazione, innovazione non solo tecnologica, innovazione nei sistemi di mobilità ma anche di innovazione sociale. Tanto ha prodotto il buon risultato di portare su questa Regione finalmente i soldi veri per fare per davvero la ferrovia. Vorrei che non si perdesse mai di vista questo obiettivo perché è vero che ogni volta che si realizza un'opera c'è qualche impatto sul territorio e qualcuno protesterà e qualcuno rimarrà colpito nelle proprie e dobbiamo giustamente lavorare per ridurre al minimo questi impatti, per indennizzare le persone dove gli impatti sono inevitabili. Ma l'obiettivo vero e il fatto di cui deve discutere l'Abruzzo è che finalmente cominciamo a lavorare per fare per davvero una ferrovia più moderna, più efficiente e più veloce. Questa prima poche decine di chilometri da Pescara fino a Scafa sono la prima parte di un progetto complessivo che si svilupperà lungo tutti i 210 chilometri della linea ferroviaria e che permetteranno alla fine di questo percorso di avere una linea che da Roma a Pescara collega in meno di due ore. Noi non ci vogliamo cacciare dentro un vicolo cieco come hanno fatto altri prima di noi, vogliamo che i soldi stanziati che abbiamo reperito, i progetti che siamo riusciti a far condividere e le priorità che abbiamo imposto al governo nazionale, al ministro delle infrastrutture, a rete ferroviaria italiana vengano rispettate perché per troppi decenni l'Abruzzo non è stata una priorità nelle politiche nazionali. Tutto l'itinerio da Roma a Pescara è inserito all'interno della legato 4, dal decreto 77 della legge 108, pertanto anche i 4 lotti che riguardano il tratto fra Pescara e Interporto saranno soggetti alla procedura dell'allegato 4 che in particolare prevede l'avvio del dibattito pubblico che avverrà entro il mese di aprile. Il cronoprogramma dei lavori soprattutto per i lotti che riguardano questo territorio, mi riferisco all'otto Interporto Manopello-Manopello-Scafa, prevede la chiusa l'Italizativo per giugno di quest'anno, successivamente avvieremo le attività negoziali per poter andare in gara d'appalto e avviare i lavori nel 2023. Questo ci consente, visti i tempi di realizzazione che sono di circa 3 anni e mezzo, di arrivare all'obiettivo degli agosto 26 come ultimazione dei lavori che è l'ultima chiamata per la rendicontazione all'Europa per il PNRR. In arrivo domenica in Abruzzo 210 mila dosi di vaccino Novavax che come ha spiegato l'assessore regionale Veri dovrebbero convincere a vaccinarsi gli scettici che insistono soprattutto nella fascia 50-60 anni. Vediamo. Arriveranno domenica prossima 27 febbraio in Abruzzo 220 mila dosi del vaccino Novavax, lo ha annunciato l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Veri che auspica la vaccinazione degli abruzzesi che ancora l'hanno fatto. La modalità è libera scelta, quindi possibilità di andare presso i centri vaccinali e potersi vaccinare con il nuovo vaccino. Abbiamo preferito usare questo metodo e non l'adesione alla piattaforma proprio per dare maggiore libertà e poter somministrare queste dosi a quelle persone che ancora tentennano e quindi avere una maggiore percentuale di vaccinati nella nostra regione. L'assessore ha poi annunciato un piano di assunzioni del personale sanitario che per 18 mesi anche in maniera non continuativa ha prestato opera nel periodo dell'emergenza sanitaria. Secondo la legge e il bilancio loro potranno essere assunti a tempo indeterminato. Altro problema affrontato invece è l'internalizzazione di tutte quelle persone che lavorano presso i servizi CUP e front office. Andremo anche qui a cercare di internalizzare. È una procedura un po' più lunga perché c'è bisogno di una legge a livello regionale e nell'emore di questa attuazione cerchiamo di omologare, omogenizzare quelle che sono le modalità di erogazione di queste attività. Centinaia di studenti delle scuole superiori terramane si sono ritrovati questa mattina in Piazza Martiri a Teramo per ricordare Lorenzo e Giuseppe, i due ragazzi morti durante il tirocinio scuola-lavoro. I giovani hanno protestato per la cronica mancanza di sicurezza sui luoghi di lavoro e sulla precarietà che dovranno affrontare dopo aver conseguito il diploma. Tania Bonnici Castelli. Di scuola e lavoro non si può morire. Lorenzo e Giuseppe vivono in noi. Intorno a questo slogan scritto a terra in Piazza Martiri a Teramo si sono ritrovati centinaia di studenti degli istituti superiori terramani per ricordare due ragazzi come loro che sono morti durante il tirocinio nell'alternanza scuola-lavoro. Manca la sicurezza durante queste esperienze lavorative, protestano i giovani. E poi cosa ci aspetta dopo? Solo precariato e pochi diritti. Il tema oggi è sicurezza sul lavoro, ma mi sembra che non ci sia né sicurezza né lavoro. No, il tema è la sicurezza sul lavoro che si collega ovviamente alla sicurezza sulla scuola-lavoro però anche il valore che la scuola-lavoro ha. Cioè noi abbiamo detto scuola-lavoro sì, ma non così. La scuola-lavoro potrebbe essere un'occasione per gli studenti e le studentesse di conoscere e scoprire il mondo e i luoghi del lavoro. E invece spesso ci si perde in percorsi inutili solo per raggiungere l'obiettivo di ora annuale. Quindi noi chiediamo una scuola-lavoro che insegni veramente qualcosa, che insegni a lavorare e che dia occasione agli studenti. La vostra preoccupazione è anche un futuro di lavoro precario? Certo, si sono visti i dati ultimi sul lavoro e il lavoro precario è sempre di più. E questo è sicuramente un grandissimo problema attuale e soprattutto per noi generazioni future che andremo a lavorare. Come abbiamo detto prima, chi non ha certezze è debole, quindi il lavoro stabile è fondamentale. Con la precarietà c'è sempre il ricatto di non essere confermati e quindi anche quando magari si avanzano i diritti le si avanza con timidezza, con riserva, perché se c'è un contratto a termine o c'è comunque un'altra forma di precarietà e adesso ce ne risparmiamo perché ne sono veramente troppe, significa che quel contratto in pratica sarà confermato solo se c'è in pratica la condivisione che è interessante per il datore di lavoro e basta, i diritti vanno da un'altra parte. Il mondo del lavoro si è indebolito nella capacità di rivendicare i propri diritti, c'è bisogno di una nuova alleanza tra il mondo del lavoro e il mondo della formazione, perché il mondo della formazione dove loro oggi sono immersi e da lì loro usciranno e troveranno questa precarietà. È necessario invece oggi che lo riflettono, che ne rendano coscienza, consapevolezza perché oggi se mettono in campo le opportune iniziative, le opportune mobilitazioni possono cambiare quel mondo e quindi quel futuro potrebbe essere migliore anche per loro. Persona, lavoro, partecipazione per il futuro del paese. Questo è il messaggio della CISL di Pescara che ha rinnovato i vertici provinciali e l'occasione è stata anche propizia per fare un bilancio sullo stato economico e finanziario nel pescarese. Vediamo. Esserci per cambiare, questo lo slogan scelto e lanciato in occasione dell'assemblea congressuale provinciale della CISL di Pescara che si è tenuta a Montesilvano. Alla presenza dei vertici interregionali di Abruzzo e Molise del sindacato, il segretario provinciale Franco Pescara ha lanciato le proposte per un cambiamento che deve coinvolgere tutti gli attori in campo, ovvero istituzioni, sindacati e lavoratori. Un'assemblea congressuale, ogni quattro anni nella CISL si cambiano le cariche. È un atto di democrazia che ripetiamo da anni e anni e anni. Quindi il nostro slogan Esserci per cambiare è dovuto al fatto che vogliamo essere protagonisti del cambiamento che c'è in atto. Chiaramente però non da soli, noi vogliamo sederci assieme alle istituzioni, alle controparti datoriali affinché assieme possiamo trovare una sintesi e dare delle risposte a chi noi rappresentiamo, i lavoratori e i pensionati. Il segretario CISL di Pescara ha auspicato anche un cambio di passo per un rilancio occupazionale ed economico sul territorio. Rispetto al 2019 e al 2020 abbiamo perso circa 1.000-1.500 occupati. Appunto per questo c'è bisogno di un rilancio, c'è bisogno delle politiche attive e non solo delle politiche passive. Quello che chiediamo per questa cosa alle controparti datoriali di sederci assieme per le politiche attive, perché noi con le parti datoriali ci sediamo solo quando ci sono le politiche passive, cioè le mobilità e il licenziamento. Sediamoci prima e magari assieme possiamo cercare di trovare le soluzioni preventivamente e non disastri dopo. Ci sono una miriade di tipi di contratti che si possono fare, apprendistato, bisogna utilizzarli tutti, però bisogna sempre poi traguardarli al rilancio del turismo per esempio, perché il turismo porta occupazione, il turismo anche nel settore alimentare può dare un rilancio, ma se noi abbiamo i problemi soltanto per arrivare in Abruzzo così pesanti con gode, 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 quindi questo è un problema. Bisogna investire per i trasporti, perché anche il discorso della Roma-Pescara può portare ulteriore occupazione qui da noi. Sono cose che bisogna fare e bisogna fare in fretta, perché se restiamo fermi probabilmente il declino sarà ancora più forte. La pagina dello Sport Serie C, non solo il punto 1 ma anche il punto 2 dell'articolo 31 del Codice di Giustizia Sportiva, viene contestato alla Delfino-Pescara per la vicenda Plus Valense e in questo caso le sanzioni, in caso di colpevolezza chiaramente, sarebbero più pesanti. La squadra intanto ha ritrovato la vittoria a Pesaro e ora deve recuperare le energie in vista del difficilissimo posticipo di lunedì a Modena. Il servizio. Il Pescara ha ritrovato la vittoria dopo tre giornate di astinenza, ma è fuori dal rettangolo di gioco che vi è qualche grattacapo. Si attendono sviluppi dalla vicenda Plus Valense, dopo la comunicazione di conclusione delle indagini da parte della Procura federale nei confronti degli undici club coinvolti da questo primo filone, tra cui la Delfino-Pescara, la società Biancazzurra ha avuto accesso alle carte, scoprendo, al contrario di quanto era emerso dopo le prime indiscrezioni raccolte tra lunedì e martedì scorsi, che è contestato non solo il punto 1, come per altre otto società, ma anche il punto 2 dell'articolo 31 del Codice di Giustizia Sportiva, al pari di Parma e Pisa. Se il punto 1, relativo a violazioni economiche e amministrative, comporta in caso di colpevolezza un'ammenda con diffida, il punto 2 può avere conseguenze più pesanti, ovvero quando attraverso una violazione di carattere economico-amministrativo una società ottenga l'iscrizione a una competizione cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni vigenti. Le sanzioni in tal caso vanno dalla penalizzazione all'esclusione dal campionato. Il presidente Daniele Sebastiani si definisce tranquillo sulla vicenda, ma sta vagliando il da farsi con il supporto del legale Flavia Tortorella. In questa fase il club ha 15 giorni di tempo dall'avviso di conclusione delle indagini per depositare una memoria difensiva o per chiedere di essere ascoltati dalla Procura Federale. In seguito sempre la Procura deciderà se archiviare o se procedere con il deferimento davanti al Tribunale Federale Nazionale. Tornando al campo, il tecnico Gaetano Auteri ha la necessità di fare recuperare ai suoi il massimo delle energie perché la chiusura del Tour de Force sarà molto impegnativa lunedì con il posticipo in casa di un Modena, ora capolista solitaria dopo la perdita dell'imbattibilità della reggiana a Gubbio. Saranno da verificare le condizioni di Diambo, indisponibile per Pesaro, Pontisso e Veroli che sono usciti malconci dalla gara del Benelli. Mancheranno ancora Memuschai, Delle Monache e Chiarella. Torneranno dal primo minuto Drudi e Ferrari, Ballottaggio, Rauti, Dursi per un posto in attacco. Sul fronte Modena mancheranno Marotta e Bonfanti, difficile il recupero di Silvestri. Dunque al centro della difesa ancora la coppia per Greffi-Piacentini mentre l'ex Matteo Ciofani tornerà titolare a spese di Ocadda. In mediana ci sarà Scarsella al posto di Magnino, definito anche il direttore di gara Giuseppe Collu della sezione di Cagliari che non ha precedenti col Delfino, ne ha due col Modena e altrettante vittorie casalinghe per 3-1 lo scorso campionato contro Vispesaro e Arezzo. Si terrà lunedì mattina alle 10 un importante CDA della Teramo Calcio in videoconferenza nel quale ci potrebbero essere novità salienti. Nell'organo amministrativo farà ingresso la dottoressa Claudia Capuano, custode giudiziario delle società poste sotto sequestro dopo i fatti delle scorse settimane che hanno riguardato il gruppo Ciaccia. Non è esclusa una ricomposizione ex novo del Consiglio di Amministrazione all'interno del quale nelle scorse settimane era entrato anche Davide Ciaccia al posto dell'avvocato Gerardo Spaltro rimasto come consulente esterno del club. E dopo lo stop con Modena, dopo domani il nuovo match interno per il Teramo che ospita il Grosseto, ultimo della classe, mancherà l'infortunato Bois. Arbitro sarà Hermes Cavaliere di Paola. I biancorossi cercheranno una vittoria che potrebbe avvicinare il traguardo della salvezza. Sulla strada il Teramo si ritroverà due ex, il DG Emilio Capaldi e l'allenatore a Genole Maurizzi. E sempre a proposito di ex, dopo l'ultima partita ha parlato anche il difensore del Modena Piacentini che ha lasciato il Teramo nel mercato di gennaio. Ascoltiamolo. È stato un bel ritorno, è molto emozionante, è stato molto bello. Dopo tre anni e mezzo è comunque un minimo, mi ero affezionato comunque ai compagni, a tutti, alla piazza, ai dirigenti, a magazzinieri, a tutti. Quindi è stato comunque emozionante, molto. È stato abbastanza semplice, ma grazie ai compagni, perché sono veramente un gruppo fantastico di bravi ragazzi e mi hanno fatto inserire veramente bene. Poi è capitato che comunque c'erano fuori dei miei compagni e mi è toccato subito essere titolare alla prima partita, ma grazie al gruppo e alla fiducia del mister è andata bene per fortuna. Abbiamo visto anche comunque video, li ho seguiti, perché comunque ci tengo. Ho visto sicuramente una squadra cresciuta. Prima veramente, verso la fine, prima delle vacanze di Natale, se succedeva qualcosa di negativo in campo subivamo e non riuscivamo a reagire. Magari prendevamo delle goleade. Invece adesso, secondo me, sono una squadra molto più compatta e forte. C'è anche forse magari questa l'esperienza, come ha detto lei che si è alzata l'età media della squadra e magari conta anche questo. È comunque una squadra molto più compatta e difficile comunque da affrontare. Sperano ci ha provato a mettervi in difficoltà. Giustamente. Sì, sì, sì. Infatti siamo stati magari un po' in balia ai primi minuti della gara, però siamo stati bravi anche a non scomporci, anche dopo il rigore. Poi fortunatamente per noi abbiamo portato a casa i tre punti. In chiusura il programma del volley del prossimo fine settimana. In A2 la Siegortona giocherà Motta di Livenza domenica alle 17.30. In A3 l'Abba Pineto riceverà alle 16 e non alle 18 il Torino. In A2 femminile pure domenica alle 17 trasferta a Marsala per l'Altino che nel recupero sfortunato di ieri ha perso 1-3 col Sassuolo. In B maschile domani alle 18 l'Alba se la vedrà con l'Ancona, mentre il Paglietta alle 19.30 scenderà a Casoria in B1 femminile. Sempre domani la Teatina Chieti sarà ospite alle 17.30 del Pomezia. In B2 Granderby domani al Pala Orfento alle 17 tra Gada Pescara 3 e Ceteas Montesivano, mentre alle 18 al Pala Elettra la Danunziana affronterà il Potenza Picena. Il Teramo infine alle 18.30 al Pala Acquaviva ospiterà Bisceglie. Io vi ricordo che tutti i servizi che avete visto in questa edizione a breve saranno disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it e vi ricordo i prossimi appuntamenti con la nostra informazione, i TG6 delle ore 19 e delle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i programmi di TV6.